ciao oggi voglio farvi vedere cosa ho trovato nel calendario del lamento di bottega verde è completamente aperto allora inizio con i bagno doccia che ne ho trovati due da 50 ml e uno allargando il marocco ed uno è alla vaniglia nera poi ho trovato una crema idratante piedi a 20 ml e una crema corpo al pepe rosa 30 ml poi ho trovato questo fondotinta che è il fondotinta no transfer da 10 ml ve lo sguoccio per la tonalità questa è la tonalità di questo fondotinta non l'ho trovata scritta che ho guardato non c'è non c'è scritta lato ah no si è qui 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 è scritto tonalità beige perché è scritto qui vicino qui in piccolino qui se non so se la telecamera lo inquadra eccola qui la tonalità è beige poi ho trovato creme viso 4 allora prima è questa qui al retinolo bv plus che è da 5 ml poi ho trovato il collagen code che è da 15 ml la riuron plus che è da 15 ml e l'aloe nettere di bellezza che anche questa è da 15 ml poi ho trovato due smaltini uno è tinta aspettate che guardo qui dietro cosa era scritto per quanto riguarda gli smalti per sapere le tinte allora uno è tinta marsala ed uno è beige perla per cui il beige perla è questo e questo invece è il marsala la matita occhi che la devo ancora aprire ancora confezionata è di taglia piccola ed è nera poi ho trovato le saponette che sono molto profumate sono fresche comunque ho trovato l'alberello e due cuoricini poi ho trovato lo spicchietto che è semplice così non c'è nessuna chiusura è proprio fatto così poi ho trovato una lima per unghie di segna posto sono fatti così tre e tre sei bigliettini di auguri ce ne sono tre di questo tipo e tre dell'altro tipo due ogni tanto mi sembra di sparire provo a prendere le cose due segna due nascrini un alberello da prendere all'albero e il pezzo questo sì me lo ricordo l'ho trovato giusto il 24 di dicembre che è una piccola taglia del provuro e dentro ecco c'è questa boccetta è senza il spray vedete è fatta così vedete il profumo esce da questo qui beh questa qui è la piccola boccetta non neanche guardato da quanto potrebbe essere se lo trovo scritto ma mi sa di no no non c'è scritto da quanta quantità c'è dentro comunque questa qui è la taglia ok allora io vi ho fatto vedere cosa ho trovato nel calendario dell'avento e per il momento ci salutiamo qui e ci vediamo ai prossimi video ciao